Secondo la tradizione apostolica che ha origine lo stesso giorno della risurrezione di Cristo, la Chiesa celebra il mistero pasquale nel giorno del Signore o Domenica. Affinché si possa vivere pienamente la Domenica non è sufficiente partecipare solo alla Messa ma è necessario celebrare anche noi la Messa. Può sembrare strano quello che dico ma mi spiego, cercando di fare della propria vita un dono, un sacrificio gradito a Dio. Uno dei segni più efficaci dell'Eucaristia vissuta nella Domenica è l'attenzione ai poveri, ai malati, alle persone sole. Una visita, una telefonata può sollevare una famiglia e rendere il nostro spirito più sereno e una testimonianza di spirito fraterno. Quante telefonate ricevo di persone sole che si lamentano, che passano ore e ore e ore senza poter dire una parola con un altro, senza poter dire nulla nel silenzio assoluto ed anche nel tormento assoluto. Gettare una goccia di gioia nel cuore di queste persone sole è veramente partecipare all'Eucaristia, alla Messa domenicale. La domenica giorno della carità e qui naturalmente possiamo dire indicare alcune piste di lavoro, che è chiaro che non è che tutti possono fare le stesse cose o ci si possa impegnare su tutto. E quindi abbiamo un'attenzione all'economia, il lavoro, la pensione, la disoccupazione, un giorno di carità sociologica, parlare dei profughi, affrontare il problema dei giovani a rischio, una preoccupazione sull'impegno del corpo fisico e dello spirituale, la droga, l'alcolismo, le famiglie disgregate, le malattie, la vecchiaia. Vedete allora quante piste di impegno si possono tenere presente perché la domenica sia concretizzata nel sacrificio di Cristo, ma anche nel nostro sacrificio unita a quello di Cristo Gesù. Allora abbiamo una Messa completa, bella. Padre Pio e l'Eucaristia, una giornata, la giornata era tutta orientata all'Eucaristia. Al mattino, abbiamo già accennato quattro volte, contava le ore che lo dividevano dalla Santa Messa, verso l'orario stabilito, scendeva in Sagristia, dove c'era già la Sagristia piena degli uomini che aspettavano e diceva soltanto il saluto del buongiorno, della buona giornata, del serodato Gesù Cristo, e poi non si distraeva, si vestiva, intossava i paramenti sagri e non dava ascolto a nessuno e era completamente penetrato dentro di sé nella meditazione in preparazione alla Santa Messa. Durante la giornata si metteva nei matroneghi, ma in una posizione strategica, possiamo dire, in modo tale che lui potesse guardare il tabernacolo e anche il grande mosaico della Madonna. Quindi dal posto dove si metteva, recitava il rosario, faceva la sua meditazione e gli occhi suoi erano puntati sul grande quadro della Madonna e a Gesù sagramentato. Ancora l'assistenza alla gente che era pesantissima perché chi veniva non veniva per divertimento, veniva per fare un cammino spirituale e anche per avere sollievo nelle proprie difficoltà della vita. A Pemboriggio poi vera la vestita a Gesù sagramentato perché a quel tempo non c'era la Santa Messa e quindi l'attenzione in modo particolare a alcuni punti della preghiera a Maria Santissima e di Santo Afonso Maria degli Uori, quanto ringraziava la Madonna di averlo liberato dalle pene dell'inferno perché a questa espressione Padre Pio cominciava a s'inchiozzare, si commuoveva da creare l'attenzione spirituale per tutti quelli che erano presenti. Padre Pio a Giovanni di Prato, che era poco di buono, era venuto qui perché voleva salvare la sua azienda e Padre Pio lo tratta male perché voleva scuoterlo e metterlo sulla strada giusta. Finalmente, dopo tante richieste, Giovanni dice io sono anche disponibile a conversarti però devi andare alla Messa la domenica e Giovanni se per tanto poco vado alla Messa, ritorna dopo due mesi e dice padre sono andato alla Messa, otto domeniche, otto messe e Padre Pio e a che ora sei andato alla Messa? Eh padre sono andato alla Messa mattotina, sono andato di mattina presto perché non ci sono messe al tuo paese più tardi, sì, e allora perché non ci sono andato? E padre che deve dire alla gente che Giovanni di Prato va alla Messa la domenica, questo o mai? E Padre Pio vai via perché non ti posso dare la soluzione. Cioè Padre Pio scuote quest'uomo che diventa un agnellino, che diventa colui che poteva entrare nella stanza di Padre Pio a fare i servizi e accompagnarle poi all'altare del Signore.